Oltre mille imprese italiane del settore dolciario sono finite sotto i riflettori dei carabinieri del NAS che nel corso delle ispezioni del periodo natalizio hanno riscontrato diverse irregolarità in ben 382 strutture a livello nazionale e il 38% delle aziende controllate. Nella regione toscana i carabinieri del NAS hanno svolto complessivamente 15 controlli in altrettanti esercizi di produzione e commercializzazione rilevando delle non conformità in 10 di questi, nessuna delle quali però nel territorio provinciale aretino. In tutta Italia invece sono state registrate 585 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Nel corso delle verifiche complessivamente sono state individuate e sequestrate 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime invasi da parassiti non tracciabili per la filiera né dal punto di vista fiscale conservati male o i spazi non idonei. Scoperti infine dolci etichettati come artigianali che in realtà erano industriali.